Nel 1980, 12 anni prima che Enrico morisse, morì purtroppo un nostro amico, si chiamava Vittorio Besciò e la Camera Arrente fu composta nella sezione del partito comunista di allora del Ponte di Pietra. Ricordo che io e Enrico passavamo la notte, si fece la veglia. Verso le 3 del mattino, a un certo punto, entravano due persone, due persone abituate naturalmente a fare il giro dei bar, si appoggiarono, non si accorsero che quella era una barra che conteneva un morto e pensavano probabilmente che fosse il bancone di un bar, senza probabilmente, si appoggiarono, io e Enrico li guardavamo, guardavamo questi due personaggi, loro guardavano noi, a un certo punto questi un po' spazientiti ci chiesero, ma allora nessuno ci serve? Stavo per alzarmi un pochino alterato, diciamo, ma non siete accorti che qua c'è, stiamo facendo la veglia di un morto, Enrico mi fermò e si alzò e gli dice, cosa volete? Ma due bicchieri se è possibile, no? Enrico prese, noi avevamo in effetti un bottiglione di vino rosso, con due bicchieri, prese due bicchieri, li mise sulla bara, no? E versò e diede loro da bere, perché mi disse che a Vittoria questa cosa qua sarebbe molto piaciuta.